Musica Bene, buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per questo consueto appuntamento quotidiano con i giornali Occhio ai giornali, vediamo come sempre in edizione locale Resto del Calino, Corriere Adriatico, le notizie principali Vi facciamo vedere i titoli, poi approfondiamo qualche articolo come sempre, non prima però di aver visto il tempo Che cosa ci sarà dal punto di vista meteorologico per le prossime ore e anche il Santo del Giorno e l'Almanaco Incominciamo proprio da qui, vediamo il Santo di oggi con l'aiuto della grafica, oggi è sabato 9 settembre San Pietro Claver, sacerdote, il sole è sorto alle 6 e 40 e tramonterà alle 19 e 30 Il tempo, il tempo insomma un po' all'insegna dell'instabilità sia per tutto il fine settimana e anche l'inizio della settimana prossima Vedete cielo poco o parzialmente nuvoloso per il transito di stratificazioni e nuvoliformi sulla nostra regione Però senza precipitazioni, almeno per oggi, le temperature sono le minime in stazionarie e le massime in lieve aumento Avete sentito, penso proprio anche sulla vostra pelle in questi giorni, in queste ore, il sensibile calo di temperatura che c'è stato nella nostra zona E quindi previsioni per domenica che non si annunciano, perlomeno sulla carta delle migliori Vedete nuvolette di un grigio intenso su tutta la costa, uno sprazzo di sole sul conero Però la simbologia della pioggia è presente, quindi già nel corso del mattino nuvoloso, a tratti molto nuvoloso Anche appunto sui tratti interni e collinari Poi le precipitazioni a partire dalla tarda mattinata, sparse sui settori interni ma potranno risultare anche intense E saranno diffuse in tutta la regione, minime in lieve aumento e massime senza variazioni, queste le temperature Per lunedì invece cambia radicalmente, vedete la simbologia della pioggia è presente su tutta la regione Nuvoloso, molto nuvoloso, precipitazioni anche se deboli, locali al mattino però con diversa intensità E in aumento nella seconda parte della giornata, quindi insomma una giornata impegnativa dal punto di vista meteorologico Quella di lunedì, oltre che per la ripresa naturalmente del lavoro, che già di per sé quello è impegnativo Con la tendenza dei giorni successivi, le condizioni di maltempo si attenueranno e si esaureranno A partire dalle ore centrali della giornata di martedì, questo sulla carta Quindi insomma inizio, fine settimana è un po' difficoltoso per il tempo e poi insomma da martedì dovrebbe rimettersi in piedi I giornali, tanta cronaca sui giornali quest'oggi ma anche molti eventi che in questo fine settimana In quest'ultima parte dell'estate sono presenti su tutto il territorio Partiamo però appunto dalla cronaca, dall'attualità e quindi insomma dal problema legato ai migranti E ai fatti, gli eventi che sono accaduti a Rimini che hanno sicuramente focalizzato L'attenzione dei giornali, dei cronisti e dei media su questo problema E si parla appunto anche di integrazione, insomma si è sviluppato tutta una serie di argomentazioni Sul imperniate, su quelli che sono stati gli eventi di cronaca riminesi Allora la pagina di apertura del Corriere Adriatico vi porto su questa Come prima pagina che vi mostro E appunto vi dicevo il programma Migranti dice Basta Migranti a spasso in città, parla Ricci, accoglienza, chiama i gestori E' stato chiesto un freno ai bivacchi e poi uno dei fratelli accusa c'era Butungu Quella notte al Sacro Cuore Fondo Cives, tre incognite per la grande operazione In pass sul bando della RSA, siamo a Fano E poi il commissario speciale per la ricostruzione De Micheli Dice prima le scuole, case e lavoro Ma anche centro pagina, fotonotizia, l'incarico fino a dicembre a Mariotti per il ROF Andiamo nelle pagine interne Appunto Ricci, sindaco di Pesaro, convoca i gestori Che insomma curano l'accoglienza per strigliarli un po' E dire basta con questi bivacchi, questi profughi bighelloni Vanno occupati in attività perché possano evitare di creare tensione sociale Per questa immagine che danno di loro poco rassicurante Alle volte appunto e quindi l'accoglienza sì Ma con regole ben decise, ben precise Andiamo nella pagina di, insomma sempre che riguarda l'interno e il pesarese Manifestazione della Lega a Vallefoglia Oggi pomeriggio la protesta per l'invasione Ci sarà un sit-in La Lega ha organizzato la manifestazione per oggi appunto nel comune di Vallefoglia Poi nel Miralfiore e nei parchi niente bottiglie e bicchieri Quindi richiesti più controlli Stretta sulla sicurezza e telecamere anche nascoste Quindi per scovare i furbetti L'ennesima accusa, l'ultima Quella arrivata cronologicamente su Butungu A proferirla è uno dei due fratelli Che ha voluto rendere dichiarazioni Su quanto avvenuto a Pesaro dopo gli stupri di Rimini Quella notte al Sacro Cuore ora c'era Butungu Questa è la dichiarazione di uno dei due fratelli Poi nelle pagine che guardano un po' anche all'interno della provincia Che cosa è accaduto E' accaduto ieri a Fossombrone Più di un anno per un ecodoppler I sindaci del territorio Li vedete qua Il sindaco di Sant'Ippolito Monte Felcino E l'assessore di Colli al Metauro Oltre che al sindaco di Fossombrone Si sono parati per la seconda, credo, volta Davanti all'ospedale di Fossombrone Per protestare, per alzare un po' l'attenzione Su questo presidio sanitario Chiede più rispetto Fossombrone Sindaci del territorio per gli impegni presi E serve una rete policentrica Questa è la loro idea di sanità Ecco, quindi insomma loro vogliono ottenere ciò che gli è stato promesso Andiamo a Urbino nella pagina del Corriere Adriatico Si parla di risistemazione Spesso i genitori, è accaduto anche qui a Fano In vista della riapertura delle scuole Si rimboccano le maniche e mettono mano a pennelli, a cazzuole e a quant'altro Per risistemare un po' le aule e le scuole dove i loro figli andranno alla riapertura Eccoli qua, sono lavori di sistemazione I genitori fanno gli imbianchini Lunedì festa con gli alunni In inaugurazione dell'adeguamento sismico nella scuola di Cannavaccio Vedete qui nella foto Momenti di questa remission form della scuola di Cannavaccio Con i genitori impegnati appunto in questa operazione Le pagine che riguardano poi anche Urbino parlano di arte, di cultura, di mostre In particolare quella di Sgarbi con Rinascimento Segreto Che ha centrato l'obiettivo territoriale di mettere in rete appunto tre città Cardine per la provincia Urbino, Pesaro e Fano Registra 48.000 visitatori e la proroga è fino al primo di ottobre E sopra nella foto vedete un Vittorio Sgarbi a Pesaro e in basso qui ad Urbino Mentre mostra una delle opere del suo allestimento Insomma se non l'avete vista ancora andateci perché merita veramente Ci sono dei pezzi unici soprattutto che non sono visibili in altri musei Apriamo la pagina di Fano del Corriere Adriatico C'era il lancio nella pagina di apertura Ed eccolo qua, operazione Fondo Cives Messa in forse da tre incognite Occorrono due varianti urbanistiche per la piscina Opera viaria compensativa Ecco qui poi è tra l'altro l'ecomostro della Gimarra E' in alto la vecchia piscina Dini Salvalai Che insomma ve la faccio vedere E' qua, ecco qui nell'occhiello Nell'occhiello in apertura del titolo Il ritardo dei tempi farebbe lievitare i prezzi Per l'infrazione a 5 milioni della fondazione E i 5 milioni della fondazione Carifano non basterebbero più Questa è la vecchia piscina e questo è l'ecomostro Che in ingresso da Pesaro di Fano Si vede sulla destra Era l'ex colonia Iniziato e poi mai costruito questo insediamento urbanistico E quindi insomma nell'articolo di Massimo Foghetti Trovate tutti i dettagli di questa operazione Che sta slittando E poi si riparla del Grizzly perché il centrodestra Unito, i consiglieri di centrodestra Presentano un'ulteriore interrogazione al sindaco Vogliono sapere perché il centro Grizzly non viene liberato L'ex casa del custode dell'aeroporto Occupata dai ragazzi del Grizzly E poi con alcune delibere ufficializzate alla loro presenza E poi insomma chiesto lo sgombero Violati dicono codice e regolamento Sollecita il centrodestra alla liberazione dell'immobile Segnalando le irregolarità che vengono effettuate in questo luogo E poi si parla di territorio Di eccellenze territoriali Di enologia Perché è il caso più unico che raro Nove produttori di Bianchello Stringono un'alleanza per promuovere questa eccellenza territoriale Questa DOC Progetto appunto presentato al Festival del Brodetto Lì vedete tutti qua i nove produttori Sono quasi tutti conosciuti Sono quasi tutti qui della zona Nuove sinergie per promuovere questa eccellenza territoriale Nella pagina del Val Cesano Poi si parla di un pressing sulla popolazione Il report epidemiologico Il comitato incalzi il sindaco Anche sul dato delle proprietà delle abitazioni Non conosciamo lo stato delle malattie Ma era un impegno elettorale Mondolfo, stranieri, extracomunitari Malattie, prevenzione e sicurezza E' un'analisi a 360 gradi Quella di Daniele Ceccarelli Esponente del Comitato Locale per la Salute Pubblica Che appunto chiede lumi su questi aspetti Questo era dalla Val Cesano Vi faccio vedere la pagina di Senigallia Sempre rimaniamo con il Corriere Poi passiamo al resto del Carlino Ciclista sul corso Sorpreso dai figili Fugge all'alte e viene inseguito a piedi Bloccato in Piazza Saffi Multato per aver snobbato i divieti In centro storico Stop alle bici Nonostante lo stop delle bici sia attivo da anni Sono tante le persone che ancora lo ignorano Perché a Senigallia Sul corso 2 giugno Non è possibile pedalare Bisogna proseguire Scendere dalla bicicletta E proseguire a piedi sul corso Solo sul corso Non su tutto il centro storico di Senigallia Solo sul corso Come dovrebbe A mio modesto parere Avvenire anche a Fano Per il corso Matteotti Che con le biciclette Spesso si fanno delle gincane Molto pericolose Soprattutto per i bambini Perché se una bicicletta ti investe In piena velocità Non ti fa tanto piacere Quindi non sarebbe male Che questo avvenisse anche a Fano Solo sul corso Non su tutto il centro Passiamo al resto del Carlino Eccolo qua La pagina di apertura Anche qui Fotonotizia Fotonotizia C'era Butungo Al Sacro Cuore Il più giovane dei due fratellini marocchini Accusa il capobranco Anche per la rapina Alla coppietta pesarese Viene collocato da lui Era lui con altri due Confermato anche il tentativo di violenza A una ragazza della loro compagnia Ma Ricci dice Pesaro è una città tranquilla Vietati alcol e bottiglie Nel parco Ed eccola qui L'affermazione di Ricci Che dice Sulla presunta aggressione al parco Sarei cauto Aspettiamo le indagini Il sindaco dice Una stupidaggine Descrivere la città In degrado E poi vi segnalo Nelle pagine nazionali Del resto del Carlino Anche un'intervista all'imam Di Vallefoglia Che si esprime In questa intervista All'arresto del Carlino In questi termini Stupri a Rimini Alla non c'entra È tutta colpa dell'Occidente Il leader musulmano dice In Marocco pagherebbero molto caro Il suo pensiero Qui l'ha accolto da Simona Spagnoli In cronaca nazionale del Carlino Andiamo a Fano Vi faccio vedere le ultime pagine Del resto del Carlino Che vi propongo per questa mattina Si parla appunto Di riscossione di tributi Proposta da Sinistra Unita Ma anche dai 5 Stelle Che sono sulla stessa linea Si parla del caso Duomo GPA La gestione interna dei servizi Ci farebbe risparmiare E ridurre le tasse Quindi gestione interna E non demandata a un terzo Vedete qui Del Vecchio E Marta Ruggeri I consiglieri E insomma in questo caso Del Vecchio Presidente della Commissione Di Garanzia e Controllo Ancora Dal resto del Carlino Vi faccio vedere Un bel evento Che si terrà domenica Nello Sferisterio Quello che è lo Sferisterio Adesso è un parcheggio Ex Capanoli di Cari di Carnevale Insomma via Adiacente a via Cavour Ritorna Il magico mondo Del pallone Col bracciale Perché arriva Uno show in rosa Addirittura la finale Del campionato nazionale Femminile Si terrà appunto A Fano Domenica Nella giornata Di domenica Lo storico gioco Rinascimentale In scena appunto Nello Sferisterio Di Fano E vedete qui Alcune immagini Dell'epoca Vedete Ai tanti giocatori Insomma Le folle Che andavano a vedere Questa 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 espressione sportiva Questo sport Anche dal punto di vista Atletico Estremamente impegnativo Ci vuole una bella forza Per giocare Ultima pagina Vi faccio vedere L'evento che si tiene A Lido In questi giorni E' appunto Il festival del Brodetto Successo del Caciucco Livornese Ora tocca alle delegazioni Estere Quest'oggi Si sfidano Spagna e Serbia Nell'edizione Internazionale Oggi alle 20 Sul palco centrale Cooking Show Con le zuppe tipiche Dei due paesi E nella foto Notizia Vedete Un momento Di degustazione Del Brodetto E poi E poi vediamo qui Antonio Bedini Che con la sua associazione Professionale Cuochi italiani Gestisce tutta Insomma Il backstage Della cucina I suoi ragazzi Nei cooking show Lavorano lacrimente Se si mangia qualcosa Di buono Lo si deve Anche a lui E ai suoi ragazzi Che lavorano Dietro le quinte Ma sono un'asse importante Di questa manifestazione Come di altre Grazie per essere stati Insieme a noi Per questa ultima Edizione di Occhio ai giornali Della settimana Che naturalmente Tornerà lunedì mattina Alle 7 e 30 Buon fine settimana A tutti voi Ci rivediamo La prossima settimana Grazie a tutti